Che cosa sei? 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 Che cosa sei e ci sei caramelle non ne voglio più le rose e i violini questa sera li posso ascoltare violini e rose mi fanno dormire quanto la cosa mi fa se mi va quanto il momento non è possibile parola, parola, parola parola, parola, parola parola, parola, parola parola, parola, parola parola, parola su tutto parola parola, parola Grazie a tutti 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 Grazie a tutti